Il commissario cittadino del PD di Battipaglia, Lucas Groia, interviene sulla nomina di Bruno ad assessore. Con una nota spiega. Il PD di Battipaglia non ha nulla a che vedere con la nomina ad assessore di Davide Bruno. Il PD era e resta forza di opposizione dell'amministrazione francese. Bruno non è iscritto al PD e al momento delle sue dimissioni da segretario del circolo ha tenuto, anzi a precisare, che intendeva concludere la sua esperienza di militanza. Poi aggiunge, spiace constatare che molte delle ambiguità e delle difficoltà che hanno contraddistinto una parte del PD di Battipaglia in questi anni e che hanno comportato una grave sconfitta elettorale l'esigenza negli ultimi mesi di commissariare il circolo, oggi finalmente sono chiare. Qualcuno giocava su entrambi i lati dello scacchiere politico e oggi con questa nomina ha gettato finalmente la maschera, schierandosi apertamente dove era sempre stato. Infine Sgroia conclude. Tutto questo non solo non cambia ovviamente la posizione del partito, ma anzi ci rafforza nel nostro intento e impegno per fornire a Battipaglia un'alternativa seria e credibile. La città merita altro e di meglio rispetto a questo spettacolo, pertanto quanti da destra hanno sostenuto fino a ieri la sindaca francese e oggi ne prendono le distanze, non provino a chiamare il PD in causa per giustificare le loro posizioni attuali, anche perché sono complici e responsabili dell'attuale situazione in cui versa Battipaglia.